Yotti è una famiglia di prodotti touch intelligenti, con un elegante pannello in vetro temperato, comandabili e programmabili da remoto. Disponibile nella versione interruttore intelligente, in quella per l'apertura e la chiusura di tende e tapparelle, e nella versione presa intelligente, Yotti possiede una retroilluminazione configurabile e una varietà di vetri colorati, che si abbina a qualsiasi parete, donando un aspetto elegante e moderno. Facile da installare, basta un cacciavite e una connessione Wi-Fi. Yotti può sostituire il tuo vecchio dispositivo in un attimo, senza bisogno di hub o centraline esterne. Puoi controllare ogni dispositivo della tua casa con un semplice tocco anche senza Wi-Fi, oppure puoi scegliere di gestirli in modo automatico o programmato attraverso l'app. Puoi parlare alle tue luci, alle tapparelle e alle prese attraverso Amazon Alexa, Google Home e i comandi rapidi di Siri. Inoltre, attraverso l'app di Yotti, puoi impostare le automazioni che desideri, ovunque tu sia, sfruttando i comandi inviati via internet. Per esempio, puoi chiudere automaticamente le tapparelle quando ti allontani da casa, oppure impostare uno scenario di benvenuto per una perfetta accoglienza. Puoi fare tutto ciò monitorando il consumo di energia per ogni dispositivo Yotti. Yotti, il design italiano. Incontra la Smart Home. Grazie a tutti.